Nuovo scivolone per il città di Monterodondo, piegato da un abbo reale che, al Pierangeli, trova il terzo risultato utile in altrettante giornate. La gara fatica ad entrare nel vivo. Per vivere la prima emozione dobbiamo aspettare il quattordicesimo. Ci pensano gli ospiti a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione di Dorto, con una conclusione di Dinella che trova la pronta deviazione in corner di Rastelli. Fatte le prove generali, l'undici di Sessito trova il gol. Neanche un minuto più tardi, Guinassi crossa al centro per Faubel che controlla e insacca con un violento destro sotto la traversa. I padroni di casa si fanno vedere al ventunesimo, con una conclusione dalla distanza di Ambrosoni che non inquadra la porta. Il città di Monterodondo pare prendere coraggio e si fa ancora sotto quando il cronometro segna il venticinquesimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Papa tenta il destro che sfila a lato. La Boreale non resta a guardare. Al trentaduesimo, Mugnai passa a Dinella, il cui tiro dalla distanza finisce alto sopra la traversa. La ripresa si apre con gli ospiti in attacco. Al secondo, Mugnai apre lungo il corridoio di destra per Faubel che conclude e trova un attento Rastelli che, almeno per il momento, gli nega la gioia della doppietta. Nonostante l'avvio più intraprendente da parte della Boreale, al settimo, il città di Monterodondo trova il pari. La punizione di Ripanti pesca in aria Cantarella, che è il più lesso di tutti, e infila in rete per il momentaneo 1-1. Il pareggio dura appena 10 minuti. Montobbio si invola sulla destra e serve Mugnai, che di testa sorprende Rastelli che, in questa circostanza, ha qualche colpa sulla coscienza. I ragazzi di Sessiti non si accontentano. Al ventiduesimo, Castellani riceve un errato rinvio dell'estremo difensore del città di Monterodondo e passa a Faubel, che di destro trafiggia Rastelli. Al ventisettesimo c'è ancora spazio per la Boreale. Mugnai ci prova con un tiro da fuori che si staglia contro la traversa. E' solo questione di secondi. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, Castellani non se lo fa ripetere due volte e di testa sigla la rete del definitivo 4-1. Poco prima del triplice fischio finale, ancora brividi per i padroni di casa, con Mugnai, ma il suo sinistro sfila a lato. Terza sconfitta consecutiva per il città di Monterodondo, che dalle stelle si ritrova a occupare una quinta piazza, che sta stretta all'undici di Parnafelli. Sorride Mr. Sestiti, che con il 4-1 odierno ha avuto la dimostrazione di poter concludere la stagione nel migliore dei modi. Grazie. 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 Grazie.